Allo Stella Stadium va in scena i match tra Stella e Pietracuta, sulla palchina ospita e Freniandi di Masticella gode della massima fiducia della società, stessa cosa di Cassidi Boldini per la Stella, un'icona di questo club. Fratti da una parte e Greco dall'altra sono i due uomini principi delle relative formazioni, in porta all'esperienza la fada padrona tra Temeroli e Lasagni. Obiettivi per entrambe le compagini, una tranquilla salvezza, salvezza che la Stella vuole costruire soprattutto tra le mura amiche, non a caso la punizione di Greco nelle prime battute del match e lì a testimoniarlo con la sfera che sfila a lato. La Stella prosegue il proprio trend offensivo, assista a cercare Angelini che si incuna in area di rigore, ma Lasagni legge perfettamente tempo ed uscita, ma al terzo tentativo i padroni di casa passano. Pasquelli buca la retroguardia ospite, non lasciando scampo all'incolpevole Lasagni, 1-0 e palla al centro. Dall'altra parte si vede Bomber Fratti direttamente a calcio piazzato, battezza sì l'angolino, ma l'ex rimini Temeroli blocca la sfera. Tanni vorrebbe tentare l'Euro-Gol, ma la concursione è di facile presa per Lasagni, invece Tomassini apre per Davide Fabri, ma il suo tiro viene smorzato dall'attenta retroguardia di casa. Dal corner il Pietracuta manda in cielo Pavani, ottimo lo stacco del centrale difensivo, ma il suo gruppo di testa non reca a grattacapi al portiere Temeroli. Il difensore, sfruttando un alto calcio piazzato e un'uscita non troppo perfetta dello stesso Temeroli, sfiora la marcatura, centrando questa volta l'esterno della rete. Il maltempo condiziona anche la ripresa, la prima azione nasce dal piede di Tomassini che imbecca Fratti, ma il numero 9 rosso-blu di testa manda a lato, primo piano meritato per l'attaccante del Pietracuta. La porta di Lasagni corre due rischi nel breve, il primo arriva con una concursione di Greco che risulta centrale, la seconda invece da Salvemeni che non inquadra il bersaglio da dentro l'area di rigore depositato il pallone sul fondo. Alto calcio da fermo per il Pietracuta, Temeroli respinge di pugno e Fabri quasi quasi fa lo scherzetto. In girata il centrocampista non riesce ad avere fortuna. Regnani tente tutto per tutto ma il Pietracuta non riesce a prevenire al pareggio, la Stella invece tiene i primi tre punti di stagione e continua a trastupire in questa categoria che sente sempre più sua.